L'atte di capra addirittura vengono attribuite proprietà antinfiammatorie, digestive e una ricchezza incredibile di sali minerali. Naturalmente la taglia dell'animale rispetto alla mucca è più piccola, quindi la proteina del latte di capra è più piccola, quindi più facile da digerire e anche meno grassa. Questi animali sono una risorsa. E anche per valori di colesterolo da sistemare, perché rinunciare al latte e ai derivati e non sostituire una o due volte alla settimana con il latte o lo yogurt di capra? Questi animali sono davvero una risorsa, fantastici e adesso hanno l'importanza che si meritano. Naturalmente il colostro di capra viene usato per la quantità di anticorpi, per le vostre difese naturali. Tutte le stagioni, qui piove, ma noi siamo al sicuro.